Amici di Marci Games, benvenuti su Golf. Oggi il caro chat GPT 4.0 ci consia di fare Golf ma è palla avvelenata, però noi abbiamo già fatto Golf ma passa la bomba, questo è diverso ragazzi, perché adesso io decreterò una persona che avrà la palla avvelenata e se non colpirà una persona si porterà questa palla avvelenata per ogni turno, quindi se facciamo caso che c'è la loco, Marci e Nico entrano in buca, lui ancora la palla deve necessariamente rinunciare alla buca, ma soprattutto ragazzi ancora più importante ce l'avrà anche il turno successivo, quindi sarà incredibile. Vediamo un pochettino mettendo la ruota, quindi allora scegli casualmente, casualmente uno tra Marci, Nico e loco. No, se metti in mezzo scegli a me, è finito. Vediamo, analisi in corso, il nome scelto casualmente è loco, vi mando il messaggio perché... Ah no? No, ve lo mando raga perché sennò sembra fake come cosa, non è fake, ve lo faccio vedere ai ragazzi così loro sono convinti di questa cosa, leggete il gruppo per favore, confermate? Confermate, stiamo confermando, perfetto, possiamo iniziare. Allora, iniziamo, facciamo... Però prima ho fatto io ovviamente... No, 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 non funziona così, loco, io vado. Agliaccio! Ho già perso. Ma loco è sceso? Dove è andato? Malaria. Loco dov'è? Forse ha senso che parta prima lui, eh, sennò se la tiene a vita, mi sa. Ehm, raga? Dove sono finito? No, raga, ho perso. Io ho quasi fatto l'in-one. Ma tu sai dove è la buca? Sì, è qua sotto, ma non so come abbia fatto. Non ci sei arrivato. Dall'inizio. Nico, ti devi muovere perché sta arrivando quell'altro. Ma non mi prenderà mai se non parti prima. Adesso lo facciamo partire... Lo facciamo partire prima adesso. Adesso! Eh, mi dispiace, devi rinunciare, mi dispiace, cioè, mi dispiace. Porca paletta, raga, qua chi prende la buca è un disastro. Vai, Cocchis, vai, Sbren. Mi sa che non si può cittare, che non può andare dietro. Quindi... Perché provo. Proviamo? Dai, proviamo. Come no? Ehi, 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 ehi. Si può. Si può. Ah, si può? Ah, andiamo. Ehi! Spiace, Locco, devi stare più attento. Ma non la sei, dai! Ma che senso ha? No, dai, no, Nico, facciamo che non si può, dai. Non ha molto zenzio. Io ho tirato, Sbrenknock. Ma come mi ha spinto? Sono caduto, raga. Ma ci sei colpito? No, non mi ha colpito, sono caduto io da solo. No, ho beccato qualcosa in aria. Spider-Man? Non c'è Spider-Man. Ma sei riuscito, Locco, ad arrivare dall'altra parte? No, non so dove sono. Dove cavolo siete? Eh, siamo qui. Passate davanti, pagliacci. Eh, certo, zio. Locco, no. Guarda bene. Ma cosa vuoi fare? Locco, ho fatto qualcosa che non... Ah, non si può. Ma non è buca quella lì, scusa, dove è la buca? Ah, eh, vabbè, mi becca per forza, Lui. Io rinuncio allora, cos'è no mi becca. Non vale. Preferisco... Non è per gaming. No, preferisco non avere la palla. No, se qualcuno vuoi entrare in buca, si becca lui il malus. No, non l'ho fatto, non l'ho deciso io così il video. Io ho deciso invece, io e Nico, maggioranza, viva democrazia. Ma mi ha buttato... Ma che ho visto una presenza a spingerti? Ma che cavolo? Quindi vuol dire che tipo faccio così e so storto. L'ho beccato, te ho beccato. Sì, l'ho beccato, l'hai visto tu, Nico? Ma non è vero, ho fatto un brito. Ma come non l'ho preso, raga? Ma che dite? Avrebbe cambiato traiettoria, non ho durito come una scheggia. Eh, però, Locco, muoviti. Sono tranquillo, tranquillo. Mannaggia, rinuncia alla buca, ci sta. Io ho visto che l'ho preso, però capisco che se voi dite che non l'ho preso, va bene. Inizio prima io, quindi, mi piace questa cosa. Facciamo che non si può citare... Mappa, perché sennò... Non si può citare, chiaramente. Mappa no, però... Vamos, potete andare... Si può citare la stessa buca? Eh, se la stessa buca penso di sì, dai. Se è la stessa buca, certo potete citarlo. Ok, vedo Marci che sta avvicinando a me, con fare minaccioso, è dritto verso di me. Non è il miglior posto in cui potessi andare questo, Donation. No! Mi hai beccato tu, pensa a te. Ti ho ricolpito. Non è vero, non è vero, ti ho colpito io. Ti ho colpito. No, io... Ti ho colpito prima, poi ti ho ricolpito e adesso c'hai te. Io non capisco, cioè, mi devi lasciare il tempo di scappare, sennò che senso ha, loco? Non sono molto d'accordo con sta cosa, sinceramente. Non lo so, ho vomitato per un secondo. Dritto, loco, dietro l'albero di... Sì! Ti ho beccato, loco. Addie, ma... Quando? Ma non l'ho beccato, adesso ti ho beccato, però. Adesso l'ho beccato. Tu hai un'altra buca. Ma dove cavolo sono finito, ragazzi? E se non è arrivato nessuno di due, che succede? Ho sbagliato! Ci sono delle falle in queste regole. Eh no, se non è arrivato nessuno di due, niente. Però sono arrivato io. Come si è? 11. Quei buco! Va bene. Io non l'ho fatta quella buca, comunque. C'era un altro passaggio. Però era giusto questo qua. Io devo farlo fin dall'inizio. Devi partire prima, cocchi. Stiamo andando in acqua. Devi comunque colpire per primo. Ma becca anche Nico, scusami. Grazie. Nico, peccato. Mamma mia, che cubo. Sta arrivando. Ah, Nico, come stai? Non ti comincia a colpire. Mi sa... Raga, li fa portare all'inizio. Non so se avete capito. Ma? Dove sono? C'è ma cieto! Raga, è una buca! Ma dove sei finito? Ma come? Sono andati in acqua, ma sotto l'acqua. Se andate sotto l'acqua nel posto giusto c'è la buca. Ma che vuol dire? Eh, se cadi dall'alto, ti sposta nella buca. Nell'acqua. E c'è una bomba. Tu ce l'hai, Nico. Non so se hai beccato l'occo. Cioè, l'ho beccato, poi l'ho ribeccato. Ah, ok. È che il loco dice che ti ribecca, ma non... Cioè, non l'avevo visto. L'ho beccato! Non lo dici più che altro. Dillo, perché se no mi... Eh, sì, c'ha ragione lui, però. Nuihihi. Ci sta. Vedi che era lì sotto la buca pure. Cioè, non so come... Io non ho capito, raga. Non ho capito proprio. Quindi Nico deve partire un attimo prima. Ricordiamocelo. Oh, santo cielo. E' un flipper, tipo. Eh, ma qui partire prima è useless. E puoi decidere di non partire prima, se vuoi. Nel senso, a prescindere, non vi beccherò mai. Mi sa che... Vuoi partire? Vai, vai, partite. Che scelta... Ho avuto fortuna? Non ho avuto fortuna. Noi abbiamo veramente avuto una scelta DM, loco. No, però in realtà, cioè, dipende dove vai, poi. Eh, ma se ci becca Nico... Io vado giù. Ma come è il becco, ragazzi? Io so tornando... Però male che mi sono bloccato! Penso di star tornando all'inizio, Nico, quindi non... Hai una buca? Intanto tutti io c'ho la buca, così teppi arriva. Questo è l'inizio, Marci. Era l'inizio! Dov'è, Nico? Mannaggia, proprio adesso che me ne sono andato perché con l'ha detto buca. Porca paletta, raga, che cubo. Rientriamo nel portale magico. Non andare di qua. Ok, bravo. E' una buca dov'è, scusami? Guarda davanti a te! Marci, ma sei stupido. Dov'è? Non l'ho vista, zio, non l'ho vista. Ah, sì, era di fianco a te, era a tua destra. Ah, non l'ho vista. Questa. Come l'hai vista enorme? Ma l'avevo vista, te lo giuro! Madonna mia! E Nico, spiazza, Nico, spiazza. Eh, ma tanto succederà anche a noi, Rocco, sta tranquillo. Ecco, tipo, questa è proprio la buca, proprio peggiore, guarda. Per noi sì. Dove facciamo qua? Ah! Mi stai per beccare? Ti ho beccato? Che farò? Non lo so, non lo so, non lo sicuro. Adesso sì, mi hai preso. Eh, che fortuna! No, ho sbagliato, ho perso. Ha vinto Nico. E anche Marci in sfida. No. Ma che è sta roba? Ma cosa mi sta succedendo? Aiuto! Guarda, c'è tutto bene. Perché non è andato? No! Non mi ha beccato! Ma stai facendo buca, Rocco? Sto salendo, non so se è buca diretta o no. È buca diretta? È ancora lunghetta, anzi, non è vero. Però vabbè, non è diretta. E mi hai beccato. Però ti ho ribeccato io. No, io ti ho beccato. No, ti ho ribeccato io. Eso c'è te. Beccato. Ah! Sì! No, stupido topo! Hai stortito un topo. Devi rinunciare, Rocco. Rocco, 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 Rocco. Che pagliacciata. Che cu... Questa sta veramente culo, eh. Qua posso dire la mia... Ho avuto veramente una botta di culo esagerata. Esagerata. Vai, sbracca. Ma cos'è sta buca? Oh, santa. Eh, no, questa in realtà è... Questa in realtà... Ci becca per forza. Forse lo becchiamo uno direttamente. Ma io sono sceso, raga. Io ne ho già fatte due, eh. C'è Marci che ne ha fatto solo uno. Guardi, quello che fai... Va bene, te... Yee-hoo! Allora! Ma raga, io continuo a uscire. Cioè, mi continuo a buttare nel viola dietro. Piano sto andando, ziii! No, raga, non va! Sono all'inizio, non va, non funziona. Guarda, vado piano piano... E mi butta fuori. Ma come mi avete fatto, raga? È impossibile! Dico, perché non ti muovi? Vuoi la risposta cortese o la risposta scortese? Ma... Scoreggia. T'ha fatto avanti tra i marci e primo! Quando l'ho detto a te... È primo! Non ho capito chi c'è la buca, la bomba. Ti metto te. Non c'è la loco, scusate. Ma io sono... Io la continuo a andare giù, raga. Non capisco. Nannaggia. No, 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 no. Questa è una brutta cosa. È dentro di noi, Nico. Ok, è stato il buco? No, la vita. Nico è caduto, marcia ancora lì, ancora lì, marcia. Dai, zitto, loco, ma non ti piace la cacarella che non ti alzi dal cesso. Io lo vi, ma l'avevo... Ma che l'avevo visto. Ma non capisci un... Ma si facesse esplodere, madonna. Ok, con che cattiveria. Vabbè, io non lo capisco, veramente. Ma Nico dov'è? Ma sei qua? Ho già rinunciato, muoviti. Perché? Non riesco. Ma io ero lì vicino a te, lo sai? Cioè, ho sbagliato il colpo. Ma qua basta andare dritto, loco? Sì, basta che vecchia buca. Uh, va bene. Ce l'hai Nico adesso, giusto? Sì. Madonna mia. Comunque siamo tutti lì, raga. Non è che sia... Io comunque li faccio in 14, quindi non è che cambia molto. Ma qui in realtà Nico ha toccato loco, quindi come fosse... Ma noi siamo un copartiti! Ma che ci porta la buca direttamente. Vabbè, è divertente, no? No, per Nico non è divertente. Se ci porta la buca direttamente non vale il più 20 qua. Questo sembra tipo... Giochiamo a Marbolan... Com'è che si chiamava, raga? Marbolan Stream. Facciamolo, ti prego, giochiamo. Facciamo un video su YouTube. Prometti che non usiamo il culo, per favore. Sai come funziona quel gioco? Sì, online, su Twitch. Alla chat. Ho toccato tutti. No, perché siamo invisibili. Devi tirare prima te. No, è stato strana, in quella opposta mia tanto. Ci sarà solo quella finale. Che simpatici che siamo, loco, comunque. Sì, simpaticissimi. Porca miseria, come un dito nel culo di un cavallo. No, è spira il culo. Mi sa che la strada di Nico è la più corta. Mi sa che la strada di Nico è la più corta. Veloce, 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 veloce. Porca miseria. Ero bloccato. Se ti muovi, Nico, ce la fai, eh? Ma tu, io so sotto. Voi non so perché siete sopra. Vabbè, ho fatto. Sbrek. E Nico? Nico. Eh, ma che cosa? Madonna, ragazzi. Questo gioco comunque ce l'ha davvero con me. Ce l'ha con io. Già che lo odio. Se vuoi, ti puoi inventare una regola a tuo vantaggio. No, io voglio inventare uno spam di un gioco diverso da golf nei commenti. Dovresti tirare, Nico. È un attimo. Guarda se ci sono altre strade, visto che prima c'erano cinque. Mi sa che qua è finita, Loco. Eh sì. Ci conviene tirare, Loco, lo sai? Eh, non puoi farlo di rimbalzo. Devi venire per forza qua, Loco. Perché non vi dico a te? Vuoi la risposta breve è scurrire o quella educata? Questa giocata mi è piaciuta. Vai a vendicarti. Via, via, via. È sempre su di me. Vabbè, ho capito. È Nico, cosa devo fare, Nico? Che cavolo è? Eccolo, ho visto. Che culo. Non ce la fai, Dali, di valinearti. Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! No, mi è peccato! Sai che mi sei che non me l'ho fermato? Ti ho preso? Ma che risulti fai, Lì? Ma che non hai preso, no? Sì che ti ho preso. Ti ho preso un botto, ti ho preso, zio. Ma cuore, ma non ero lì! Ti ho preso, fidati che ti ho preso. C'è il video. Comunque ero di nuovo qua. Perché non mi hai aspettato? Non lo so, ragazzi. Mi sono letteralmente fracassato. Non vedo nessuno. C'ho sempre le mappe così io. Ma senti, ma... Cioè, ma dritta, ce l'ho anche... Ti ho tirato addosso, Marci, ti ho tirato. Ma qui ce l'ha. È buca questo? Non diretto. E chi ce l'ha adesso? Nessuno ha beccato. Ce l'ha Nico, ce l'ha. Dov'è la buca? Dov'è la buca? È tornato Nico, beccalo! È finita. Non mi ha beccato, non ci posso credere. Sbagliato, sbagliato, sbagliato. Eh, troppo lontano, non ci arrivo. Io, tiralo, tira, ma becca! Nico, sei stupido, potevi beccarlo. Sì, potevi beccarmi qua, Nico. Va bene che si sfigato, ma... Comunque, ho avuto fortuna perché era il quindicesimo colpo. Sennò, di conseguenza, l'avrei passata a Nico. Oh, guarda che bella questa, Nico. Mamma, che culo! Perché tu mandasma? Uh! Se l'ha marcio. Preso, loco. Ma dimmelo! Ma... Non l'hai visto, scusami. Come? Facciamelo su un qua. Eh, caspera, levati le palle. Peccato. No, non mi hai beccato, no, loco. Non mi hai beccato, loco, per niente, proprio. Ho visto bisogno di andare, io. Ma guarda che... C'era, quindi, c'era la loco. C'era la loco. Sì, c'hai, dai, Nico. Ti ho ripreso, loco. Da casa potrei prendermi in un solo colpo. Eh, ecco i fantasmi. I fantasmi sono... I fantasmi sono più nemici che amici, comunque. Mi ha beccato, sì, confermo. C'era, Nico, c'era, Nico, c'era, Nico. Come si è sottoposto? Madonna, stavo per beccare io, Nico, cioè, boh. Me ne ho capito, raga. Ah, ho capito. Per cui io sono in mezzo ai fantasmi, non me ne volevrò mai da qua. Raga, è a più faccia quello che sembra, comunque. Ma questo è l'inizio, però. Devi uscire. No, è giusto, è giusto. Però io. Madonna mia. Peccato. Raga, la buca è... Non bisogna andare verso... Bisogna andare verso il lato, comunque. Ok. Vi ha beccato, ti ha beccato? No. Lì devi andare, loco, dritto davanti a te, però storto. Ho finito i colpi ormai. Eh, sei finito, da lì ti passa automaticamente a te. È giusto dove sei andato. Ma inizio, no, è qua. Ciao, Nico. Ha finito i colpi, loco. Oh, ha beccato. Ma non ce l'aveva, loco? Adesso ce l'ho io. Eh, ma ce l'ha automat... Se non ce l'ha fatta, è l'ultimo che ce l'ha avuta, quindi loco ce l'ha. Anche se Nico non ce l'ha fatta. Eh... Eh sì, per forza. Non ce l'avete fatta entrambi, ma lui te l'ha data per ultimo, quindi ce l'hai tu. Non sono ancora al sicuro, è incredibile questa cosa. Ho capito bene dove bisogna andare. Ma raga, ma non si ferma la mia palla. Anche la mia tranquilla. Ciao, loco. No, ma non... Ciao. Mi sa che mi becchi. Beccato, infatti. È tutto così questa pucca, sarà molto lunga, ho preparato. Vieni, loco. No, vieni, loco, vieni. Mamma mia, come l'ho saltato, attenzione! Arrivederci. Porca paletta. Che è la malaria? Salva, Nico! È Marcio, è la malaria? È Marcio, è la malaria. No, 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 è la malaria, raga. Che cosa stai dicendo? Cretini. È dietro di me! Ce l'ha fatta. È mia, mi sa che è mia, raga, qua. A meno che sbagli l'occo. Sbrek! Marci! Sbrek! Com'è? Tutto bene? Sì, vieni, dai, sbrek. Sbrek, vieni? Ma sentite, guarda, abbiamo quattro minuti di tempo. Fa niente, io sto qua fermo, perché fa niente. Dai, loco, non far metà gaming. Dove cavolo è andato? Ma guarda che culo! Ah! Preso. No, perché tua porta, che hai preso? No, t'ho preso io, loco. Ma che stai a dire? Ma quando? Nico, mi ha preso? Sì, che ti ho preso. Non stavo guardando, sinceramente. Loco, ti ho preso. E con me non mi ha preso mai. Allora, calmo. Non mi ha mai preso. Ragazzi, var, mi fermo. Confermato, ragazzi. Il var conferma. Il var conferma. È stato preso loco locus. Vai, loco, sta a te. Dove è andato? Sei già andato? Sei martoriato? Eh, vabbè, ma è lì. Io voglio... Ma per forza che bisognava tirare. Che sfiga di... Aspettiamo Nico. Pagliaccio, fai schifo! Nico, becca Marci! Ma io non ho la malattia. Ma ce l'hai tu, scusami, loco. Lo so, ma devi bloccarlo in qualche modo. Ma perché dovrebbe bloccarmi? Ma fammi... Beccato Marci! Che culo, porca miseria, che c'hai, va. Vabbè, ciao. No, no, ci c'è un culo di p***a comunque ogni volta. Ho beccato Nico. Ora potresti fermarti prima di me, quindi non è detta l'ultima parola. Sì. No, ancora lì, ancora lì, ancora lì, ancora lì. Mi sa che è detta l'ultima parola. Chi ce l'ha esso? Chi ce l'ha? Io ce l'ho, io ce l'ho. Niente, non ce l'ho fatta. Bravo Nico! Ci sta, ci sta, raga, ci sta. È bello, bello così, dai. Va bene, va bene. Var, var, var. È tutto aperto, eh. È ancora tutto aperto. Ah, qua bisogna per forza andare dietro. Eh, eh. Per forza? Eh sì. Direi, direi di sì. No, per forza in realtà. Eh sì, la strada è questa. Dietro è un'altra buca. Chi l'ha? Ce l'ha, Nico? Non lo sponcio io. L'avete vinta, tranquilli. No, 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 no. Madonna. Come è successo? Ma cosa dobbiamo fare? No, Nico. Calma, avvicinati. Ti ha beccato? Ho beccato di nuovo. Vabbè, è sempre... Ma è beccato di nuovo. Ma è impossibile. Come cavolo facciamo qua? Cioè, come dovremmo fare qua? Scusatemi. No, 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 no. Arrivate, voglio aiuto, aiuto. Puro, 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 puro. Vi prego, veloce, veloce. No, sono uscito. Cosa è successo? Sono uscito, sono uscito. Veloce. Rispona. Non ho perso. Ho perso. Aspetta, zio, che qua è complicatissima. Zio, è lunga. Non ce l'hai tu, Nico, vero? Perché mi hai colpito? Non pensavo ce l'avessi tu. Cioè, lui lo colpisci, geniale. Ciao, loco. È finita per me, vero? Sì. Eh sì. Ve l'ho detto che era difficile questa. K, Nico. Io ho fatto buca instant. Rinuncio. Non c'è di difficile, scusami. Eh, ho sbagliato, Nico, ho sbagliato. Volevo mettere un po' di pepe. Dai, mettiamola così. Ah, mannaggia. Sono confuso. Siamo tutti lì. Hai provato o no? Io? Eh. Ho sbagliato io. Ma era dritta la buca. Ho sbagliato, perché beccandoti ti ho... Sono finito giù. Ho beccato loco. Tempo che facciamo. Come hai fatto arrivare lì? No, loco, che sbatta. Eh, che sbatta io dico che sbatta. La vita non... Ciao, loco. Godo. Godo di nuovo. Non doveva succedere questo. Madonna mia, loco, che sculo che c'ha. Ti ho ribeccato, Godo! Ma come? Ma dove? Come hai fatto a vederlo che... Mi prendi per il culo! Ti ho ribeccato adesso, però. Io non ho capito niente. Chi è che è ora lì? Ce l'ha, loco. Ce l'ha, loco. Ce l'ha, loco. Ce l'ho, Marci. Ce l'ho io. Ce l'ho sempre io, ormai. Entra! Annaggia! Oh, ho una streak negativa che è amorosa, eh! Attenzione, sorpasso! No, ancora! Sorpasso, ancora no. Di poco, di poco! Di poco! Di poco! Eh, ragazzi, qua è difficile. Eh, ma... Eh, non gioirei. Diciamo, non gioirei. Ehm... Non si può fare. Ah, è da me! Preso. No, sono tutto indietro. Ho preso Kiko. Quindi è loco l'impestato? Sì, sì. Non ho quale malattie? Eh, loco qui... O ti muovi... Oh, c'è la buca... Easy. Sì. Ma ti sono entrato? Eh? Da dove sei passato? Dallo stesso buco in cui sei entrato te. Perché loco non ha reagito? Non lo so, infatti... Perché ero sopra! Eh no, potevi farlo, zio. Era... Guarda che era fattibile. Dai qua. Non ho ben capito la situazione. Ma io sono lontanissimo, raga. Deve colpire ancora loco, vero? Sì, ma non so perché io sia qua. Dimmi when, hai colpito. Ho colpito io. Ma penso si possa abbassare anche di qua, Nico. Lo sai? Ci sono più strade. Sì. Zio, non ho ancora fatto il mio tiro, loco. La f***a. Oh no. Non hai capito cosa devo fare. E lo parte due. Cioè, io mi ciro a Nico, loco. Non so se te ne sei accorto. Non mi ha preso. Non è vero, dai. Non ho capito cosa devo fare. Credo ci siano più strade. No, c'è una sola strada. No, ce ne sono due di strade. Una è la mia e una, tipo, puoi salire. Sì. Dov'è? Cosa devo fare da qua, Nico? Dimmelo subito, ti prego. Dimmelo. Qui ce l'hai tu? No, c'è la Marci. Ce l'ho io. Devi salire sopra sto tondo. Devi far canestro. Beccato. Beccato. No, arca miseria. Qui dico che mi andasse sopra, forse. Madonna. Non l'ho beccato? No, ha beccato il muro. Madonna. Ciao Marci, come stai? Peccato. Adesso sì. No, che cool, dai. Ci ha bloccato lì. Eeeh, niente. Qui son caduto prima, Ionico. Ma è lunghissimo, zi. Dai, puoi ancora farcela, loco. Non sto scherzando. Vinto. Niente, posso farcela. Veloce. Dove cavolo è, loco? All'ultimo colpo. Me ne sono accorto adesso. Madonna. Madonna, raga. No, Nico comunque è assurdo, eh. Assurdo, Nico. Zitto, zitto. Fallatemi. Lasciatemi dormire. Vai. Ma vai tu. Ma è il loco che c'ha la bomba. Appunto, vai tu. Ha già tirato? Eh. Dove è andato? Eh, dove vuoi che sia andato? È sceso? Ok, noi dobbiamo fermarci prima, amico. Perché se ti fermi prima, si... Ma perché? Deve farlo. Buttalo giù. No, non farlo. Buttalo giù. Sì, dico, buttalo giù. Ma no, cioè lui è onesto. Dico, buttalo giù. Noi siamo onesti a vicenda. Buttalo giù. Vedi cosa puoi fare da qua? Irka, vedo. Dai, ma si rimbalzi. E pagliaccio! Che vuoi? Mi hai smancato, non ci posso credere. Non ci credo, loco. Come hai fatto a mancarmi? Oh, signore, che ci fai qua? Dai. Ti spiace, Nico. For real, for real. Non volevo Nico farlo. Qui, non mi sa che ora ti ritocco senza volerlo. Ma tutti qua siete nella selva oscura? Eccamarci! Niente, faccio schifo, faccio, raga. Faccio vomitare. E dove è, loco? No, Nico, non lo vedo. Una belva che mi vuole mangiare. Credici. Mamma mia, che disastro. È dalla parte opposta della tua. Non ci credo che culo, loco. Eh, lo aspetto qua. Eh, per forza. Per forza. Per forza parte. Eh, ma zi, non hai capito? Lui è lì davanti alla buca. Ah, Nico, è dalla parte opposta. No, no. Che devo fare? Non ci credo. Eh, ci sta. Ci sta, ci sta. Penso sia ancora tutto aperto. Sì, ancora tutto aperto, raga. Chi ce l'ha? Nico? Eh, però qua sono in one. Non vorrei che... Eh, non vorrei che. Non vorrei che. Vediamo. Ma voi siete dietro di me, eh? Dentro. Ah, io ti vedo dietro. Ok. E cosa che dobbiamo fare? Giro giro tondo, casca il mondo. Casca, terra. E Nico è giù per terra. Dove cacchio dobbiamo andare qua? Ma si fermerà mai sto coso? È un tour di tutta la mappa. Devi apprezzare la... Che hanno costruito. No, la mappa era bella. Ammetto che era una delle più belle mappe che abbiamo fatto in ultimo periodo. A me è piaciuta molto. Però se si muove magari... Ah. In zero. Unico ultimo, unico ultimo comunque. Sì, sì. Mi piace, Nico. Ragazzi, vediamo al prossimo. Da marcio tutto. Ciao.